Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Garcini. Infibili per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del Turbone sono possibili disagi tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. 5 km di coda per lavori tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest in direzione Firenze. La statale 330 è chiusa in località Biano Magra nel comune di Aulla, in provincia di Massacarrara, a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. A Pistoia, per lavori di ripristino strutturale al viadotto sul torrente Ombrone, in località Capostrada, fino a mercoledì chiusa la bretella di collegamento tra la strada regionale 66 Pistoiese e la statale 716 Raccordo di Pistoia. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!